Il dibattito sui prezzi dei videogiochi è sempre all'ordine del giorno. È un tema sempre all'ordine del giorno, ancora di più con l'avvento della nuova generazione, che in questo momento in realtà è abbastanza in stasi nell'attesa dell'arrivo di nuove scorte che siano consistenti abbastanza da far fronte all'ampissima domanda dei consumatori, perché abbiamo appreso che diversi giochi che nelle generazioni precedenti, i cosiddetti AAA, quelli più mainstream, erano venduti a 69,99€, adesso sono passati alla fascia di prezzo, di primissima fascia, da 79,99€. La domanda quindi è, è vero che i videogiochi ci stanno costando sempre di più? Abbiamo deciso di fare una piccola indagine in merito, tenendo anche conto dell'inflazione, di andare a rivedere quanto pagavamo i videogiochi in passato, quanto valore c'è nelle cifre che pagavamo in passato, quanto abbiamo pagato le console in passato rispetto ai costi del listino di ernie e soprattutto, dato da non sottovalutare, siamo andati a indagare quanto costava produrre quei videogiochi e quanto costa oggi produrre quei videogiochi. Ne parliamo oggi sulle pagine di Spazio Games in un video fitto, 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 fitto di quelli che piacciono a me e vi do appuntamento subito dopo la sigla. Amici videogiocatori bentornati sulle pagine di Spazio Games, io sono Stefania e come vi dicevo nell'introduzione oggi parleremo di dindini, di soldi, dinero, money relativi ai videogiochi. È vero che stiamo spendendo sempre di più santo cielo per videogiocare considerando che adesso ci sono giochi che di listino costano 80€, è un tema sempre attualissimo, pensiamo ad esempio Take Two che in diverse uscite ha fatto sapere che secondo lei i giocatori si abitueranno abbastanza presto alla nuova fascia di prezzo, pensiamo al fatto che ad esempio proprio NBA di Take Two sia stato lanciato sulla nuova generazione con un prezzo di 80€, ma ci sono anche altri giochi come Demon's Souls di Sony stessa venduti a 80€ di listino, ci sono anche le parole dell'ex Sony Sean Layden che qualche mese fa, più o meno a ottobre mi pare, disse che secondo lui il fatto che i prezzi di listino dei giochi fossero rimasti abbastanza immobili, a dispetto invece di costi di produzione sempre più alti per la produzione di videogiochi, avesse ormai messo l'industria di fronte a un cortocircuito da affrontare quanto prima perché non puoi più far pagare i giochi lo stesso tot se produrli ti costa magari 10 volte tanto. È vero tutto questo, per noi giocatori cosa significa? Prendiamo questo argomento punto per punto, cominciando proprio dal prezzo delle console. Sappiamo che PlayStation 5 e Xbox Series X sono state lanciate sul mercato con un costo di listino di 499$, nel caso di PlayStation 5 però il costo d'entrata è quello della digital, quindi scendiamo a 399$. Perché ho iniziato a parlare in dollari anziché in euro? Perché per fare questa indagine abbiamo preso come punto di riferimento i prezzi in dollari perché era più facile, uno, accedere al loro storico e due, accedere al calcolo dell'inflazione che vedremo a brevissimo. Quindi, di fronte a delle nuove console che sono lanciate sul mercato con il prezzo rispettivamente di 499$ per Series X, 399$ per PlayStation 5 e digital, 499$ per la standard e 299$ per Xbox Series S. Come è andato a oscillare il prezzo delle console, delle macchine da gioco rispetto a quello che abbiamo visto storicamente? Tutte le nostre statistiche che vedrete nel video di oggi sono state calcolate con l'inflazione che è stata rimediata, mettiamola così, utilizzando un tool fornito proprio dagli Stati Uniti per andare a valutare come si è cambiato il valore della moneta con il passare degli anni. Quindi vi lascio il link in descrizione qui sotto ma trovate anche il link all'articolo testuale e se volete potete fare qualche esperimento anche voi con il calcolo dell'inflazione con questo tool. Quindi andiamo a prendere i prezzi delle console e che cose rileviamo? Rileviamo ad esempio che nel 1985 Ness venne lanciata sul mercato a 199$ che oggi sarebbero equivalenti a 478,92$. Altri esempi abbastanza illustri, SNES 1991, 199$ e oggi sarebbero 376,99$, quindi un prezzo abbastanza in linea con quelli che siamo soliti pagare otternamente. Diversa invece la logica del Neo Geo, Neo Geo, se preferite 1991, 649$ che erano già una cifra abbastanza esorbitante per il 1991 che oggi sarebbero 1,238,52$ con il valore attuale della moneta, quindi una cifra abbastanza consistente. Vediamo in tempi più recenti, PlayStation 2 lanciata in America nel 1995 a 299$, oggi avrebbe un costo di 507,28$, quindi addirittura superiore di una manciata, insomma di banconote, di una manciata di verdoni se così vogliamo dire, rispetto ai 499$ di PlayStation 5 standard e di Xbox Series X. Nintendo 64, siamo nel 1996, costo di listino di 199$ e oggi sarebbero 327,78$. Ci sono poche eccezioni, come notate tutti questi prezzi oscillano più o meno tra i 300$ o qualcosina in meno e i 500$ che sono tutt'oggi nella soglia psicologica delle cifre che siamo disposti a pagare per le console. Vi ricorderete sicuramente prima dell'annuncio dei prezzi di PlayStation 5 ed Xbox Series X che tutti dicevano che devono costare meno di 500$ per non superare la soglia psicologica dei 500$ oltre la quale il consumatore percepisce che costano un pochino di più. Perché questo? In effetti guardate ad esempio PlayStation 3, in questo grafico vi ricordo che abbiamo tenuto conto sempre del prezzo più basso di entrata della console, quindi se c'era una variante del prezzo più basso, esempio PlayStation 5 Digital, in questo grafico indicato il prezzo basso rispetto ai due, in modo che sia proprio quello minimo con cui questa macchina si è affacciata sul mercato. Quindi per PlayStation 3 abbiamo inserito nel 2006 il prezzo di 499$ proprio il modello entry level che oggi sarebbero 643,67$. Non stupisce che si sia parlato storicamente di un prezzo sbagliato perché è troppo alto per quanto concerne quanto individuato da Sony con PlayStation 3 a fronte della concorrente Xbox 360 che nel 2005 venne lanciata a 299$ che oggi sarebbero 393,30$, quindi molto sotto la soglia psicologica dei 500$ di cui si parlava. Possiamo parlare anche della generazione di console precedenti arrivata nel 2013, i 399$ di PlayStation 4 oggi sarebbero 444,96$, mentre i 499$ di Xbox One, vi ricorderete il caso del prezzo maggiorato perché doveva includere necessariamente Kinect nella confezione, ecco quei 100$ in più rispetto al costo di listino di PlayStation 4 si traducevano in un prezzo nel valore attuale della moneta di 556,48$, quindi qui eravamo sopra la soglia del valore, saremo oggi sopra la soglia del valore dei 500$ che è stata identificata come quella psicologica ideale. Vedendo questi numeri fianco a fianco con lo storico e con il valore attuale della moneta è facile notare, come abbiamo fatto per PlayStation 3 ma anche come abbiamo fatto per Xbox One, alcuni dati interessanti, ossia quando effettivamente il prezzo era percepito come alto e oggi ancora con il valore attuale di quella moneta lo percepiremmo come alto, la console ha avuto qualche arrancamento rispetto ai piani iniziali che erano stati immaginati dai suoi produttori. Insomma quello che emerge è che le console riescono a dare il meglio di sé sul mercato quando si mantengono in una fascia di prezzo compresa storicamente tra i 300$ e i 500$. Questo è un dato che comunque dobbiamo affiancare al fatto che come sappiamo nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo visto recentemente le console vengono vendute in perdita proprio per cercare di mantenersi entro questa soglia di prezzo. Quindi guardando allo storico alle console che abbiamo acquistato fin dal 1977 si è arrivati un po' a stabilizzarsi con l'affermarsi delle tecnologie su prezzi che oscillano tra i 300$ e i 500$ con poche variazioni. Per quanto concerne invece l'acquisto dei giochi da utilizzare su quelle console? Ci ricordiamo tutti i tempi ad esempio chi è cresciuto con la prima Playstation in cui si andava ad acquistare un gioco per 49.000 lire, c'erano giochi di maggior richiamo che si potevano portare a casa spendendo 100.000 lire e altri ancora più di vetrina che magari erano composti da più di un disco che erano venduti a 110.000 lire. Adesso è vero che oggi stiamo pagando di più per acquistare i nostri videogiochi anche in questo caso abbiamo preso come punto di riferimento il costo dell'estino statunitense anche perché era quello che veniva citato da Sean Layden nella sua disamina e quindi prendiamo come riferimento i giochi che costano 59$ che sarebbero i vecchi 69€ della nostra generazione passata. In questa generazione gli americani stanno pagando i giochi AAA appena usciti 69$ che diventano i nostri 79€. Con il nostro calcolo relativo al valore della moneta con riferimento al 2020 cosa abbiamo rilevato? Abbiamo rilevato che ad esempio i 49,99$ di listino che servivano per portarsi a casa un videogioco nel 1999 equivalgono agli odierni 77,62$ quindi siamo abbastanza in linea leggermente sopra i 69$ che oggi bisogna pagare ad esempio per portare a casa un Demon's Souls di listino. Quando poi si è passati nel 2001 qui il riferimento a Layden che parlava di prezzi che non cambiavano da decenni già dal 2001 i videogiochi di listino tripla costavano 59,99$ nel 2001 quel valore era pari a 89,17$ odierni quindi un prezzo sensibilmente più alto rispetto a quello che si paga oggi 69$ di listino. I 59,99$ del 2006 oggi sarebbero 77,44$ quindi leggermente sopra a quanto si paga odiernemente mentre il valore dei 59,99$ del 2013 della generazione di PlayStation 4 e Xbox One oggi è pari a 66,69$. Quindi tenendo conto dell'inflazione dell'oscillare del valore della moneta dell'oscillare del mercato e quant'altro emerge che rispetto ai 59,99$ che abbiamo iniziato a pagare nel 2013 per i videogiochi tripla di PlayStation 4 e di Xbox One che valgono odiernemente 66,69$ l'oscillazione verso l'alto è stata di appena 3 dollari e qualcosa rispetto appunto ai nuovi prezzi di listino da 69,99$. Il dato si fa sensibilmente più interessante però se andiamo a guardare il costo per megabyte cioè come sono cambiati i costi di produzione e come sono cambiati i costi per i consumatori. Considerando che oggi viviamo un mercato dei videogiochi che ragiona tanto su un tanto al chilo scusate il gioco di parole è abbastanza infelice ossia noi paghiamo una cifra e diciamo ho pagato questo gioco 60 euro mi deve durare almeno 50 ore quindi ci ritroviamo di fronte esperienze di gioco sempre più sterminate open world a volte sempre più abusati sempre più giganteschi che comportano una mole di lavoro sempre più enorme che è un po' il ragionamento che faceva Leiden quando diceva che è difficile pensare di tenere costi simili per il consumatore se sono cresciuti tanto i costi per il produttore. Ecco se noi andiamo ad analizzare il costo al consumatore per megabyte siamo riusciti a risalire a uno studio interessantissimo che avevano fatto i colleghi di VentureBeat qualche anno fa già nel 2013 che faceva prevedere che saremo arrivati al modello free to play perché se noi guardiamo insieme questo grafico possiamo vedere che la linea arancione che state vedendo indica il costo per megabyte ok il costo per megabyte di produzione vediamo che c'è stato un calo poi una risalita poi si era abbastanza stabilizzato intorno agli anni 10 del 2000 era abbastanza lineare di contro invece se guardiamo la linea bianca abbiamo il costo medio di prezzo per megabyte per il consumatore e qui ovviamente è andato a crollare perché quando il prezzo dei videogiochi è rimasto sempre stabile sui 59,99 dollari ma i giochi hanno iniziato ad avere dimensioni sempre più generose il prezzo è andato a crollare e ha continuato a farlo fino a quando non siamo arrivati appunto all'avvento di un modello come quello di free to play alla genshin impact dove tu addirittura hai accesso gratis al gioco e la monetizzazione è tutta incentrata sulla persistenza e sul fatto di venderti contenuti dopo che ti ho già trascinato dentro il gioco non per farti accedere al gioco quindi se ragioniamo sul fatto che il costo per megabyte è crollato così tanto non possiamo esimerci per il consumatore almeno non possiamo esimerci dall'andare ad approfondire quanto invece stanno mettendo in moneta sonante le case produttrici per rendere possibili quei videogiochi insomma se persone come zilnik di take two dicono che è necessario arrivare a questo aumento di prezzi che i consumatori si abitueranno è perché stanno spendendo quanto per realizzare questi nuovi videogiochi abbiamo fatto un'indagine partendo da uno studio simile che avevano fatto i colleghi di kotako abbiamo radunato un po di numeri tra videogiochi particolarmente famose che abbiamo giocato in tempi recenti e meno recenti siamo arrivati ad esempio a raccogliere dati come il fatto che il primo crash bandicoat nel 1996 si è costato 1,7 milioni odward apes odyssey si è costato nel 97 2,5 milioni riven che era un gioco già molto corposo nel 1997 ha avuto un costo di produzione di 20 milioni aver quest siamo arrivati a 3 milioni system shock 2 1999 1,7 milioni black and white vi ricorderete tutti dell'ambizione di black and white 2001 5,7 milioni e qua già con un salto generazionale jack and dexter arriviamo a 14 milioni l'ambiziosissimo half life 2 nel 2004 costo 40 milioni cifra molto consistente possiamo saltare a gears of war 2006 arrivato al costo di 10 milioni bioshock 2007 arrivato a 15 milioni c'è già un aumento in alcuni casi di quasi dieci volte rispetto ad alcuni casi precedenti god of war 3 2010 siamo arrivati alla ragguardevole soglia di 44 milioni heavy rain fortemente cinematografico 2010 40 milioni beyond due anime a sua volta super cinematografico 2013 27 milioni gta 5 uno dei giochi che non hanno bisogno di presentazioni costato 137 milioni nel 2013 metal gear sold 5 2015 80 milioni di costi di produzione the witcher 3 2015 46 milioni di costi di produzione per arrivare fino a cyberpunk 2077 nel 2020 che ha richiesto 120 milioni di investimenti per la sua produzione della stovas parte 2 2020 che ha richiesto sappiamo più di 100 milioni per la sua produzione vale la pena fare una nota in questo caso il fatto che questi numeri siano andati a fioccare perché è evidente che parliamo ad esempio di un cyberpunk da 120 milioni o di un gta 5 da 137 milioni a fronte di che ne so un'ultima set che era andato a costare 3 milioni in questo caso non è l'inflazione ovviamente a essere la discriminante maggiore perché abbiamo calcolato ad esempio che i 3 milioni di budget del 1992 oggi sarebbero 5,6 milioni oppure i 10 milioni di gears of war nel 2006 oggi sarebbero 13 milioni quindi ci sarebbe stato un incremento ma non su base esponenziale come abbiamo visto in questo caso quindi quello che emerge da questo grafico da questi dati messi così uno uno di seguito all'altro cos'è è il fatto che videogiochi che hanno sempre di più tradotto il fotorealismo e l'ampiezza come sinonimi di qualità sono andati ad avere costi sempre maggiori sono diventati sempre più articolati di conseguenza richiedono budget sempre più in impennata se così vogliamo dire per venire realizzati quello che emerge da questo studio che abbiamo trattato molto rapidamente in questo video trovate poi tutte le riflessioni del caso nell'articolo testuale su spazio games.it è che i costi delle console sono rimasti abbastanza stabili costi dei videogiochi sono andati a salire ma se guardiamo al valore della moneta in realtà sono abbastanza equilibrati perché i 59 dollari che pagavamo un tempo sono essenzialmente in linea con quanto paghiamo oggi anche i 59 dollari che abbiamo pagato all'inizio della scorsa generazione equivalrebbero a 66 dollari attuali quindi non cambia molto rispetto ai 69 dollari di listino mentre l'impennata grossa c'è stata effettivamente nei costi di produzione dei videogiochi che tanto amiamo questo che cosa ha portato? ha portato a trovare dei compromessi per fare in modo che il prezzo rimanesse comunque accessibile e concorrenziale per i consumatori trovando altre vie di monetizzazione per far fronte agli investimenti sempre più importanti fatti dai publisher e dagli sviluppatori abbiamo l'avvento dei free to play abbiamo l'avvento dei modelli in abbonamento abbiamo l'avvento dei videogiochi persistenti e fa riflettere ad esempio il successo di videogiochi come Genshin Impact che lo scorso anno è diventato un vero e proprio fenomeno realizzato con oltre 100 milioni di dollari di budget proposto da subito come free to play è diventato un gigantesco successo commerciale diventato davvero uno dei tormentoni seguendo l'andamento di quel grafico che vi abbiamo fatto vedere dove il costo per megabyte per il consumatore è crollato talmente tanto da appiattirsi sulla gratuità trovando quindi altri modi per monetizzare l'accesso dei videogiocatori ai titoli e soprattutto la permanenza dei videogiocatori all'interno dei titoli come sempre sappiamo che sono i videogiocatori a decidere quindi se non vi piacciono i modelli che stanno venendo proposti se trovate che questi prezzi siano troppo alti se trovate che i prezzi delle console siano esagerati ragazzi ricordiamoci sempre che il videogiocatore ha una possibilità di voto potentissima in tasca che si chiama portafogli quindi se ritenete che i prezzi siano eccessivi o qualsiasi altra cosa non è di vostro gusto non vi piacciono i modelli season pass non vi piacciono i giochi persistenti ovviamente supportate o non supportate determinati modelli in base al vostro amore è cosa vorreste dal domani dei videogiochi sicuramente con un'industria che vede la sua capillarità crescere sempre di più ancora di più in tempi di pandemia con un'industria che vede di conseguenze i costi di produzione aumentare a vista d'occhio era evidente che fosse necessario trovare nuovi modelli di monetizzazione se avranno il definitivo lascia passare nel cuore dei videogiocatori saremo essenzialmente solo noi a deciderlo ragazzi ho parlato come una specie di AK47 spero di non avervi ucciso perché mi sono resa conto che ho parlato davvero a mitragliatece se siete riusciti ad arrivare vivi fino a qui vi ringrazio per aver visto il video io sono stefani vi do appuntamento come sempre sulle pagine di spazio games per notizie recensioni approfondimenti tutto quello che ci piace tanto tanto relativamente ai videogiochi vi ringrazio per aver visto il video fino a qui ci vediamo presto nel prossimo ciao 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 ciao